No, il profumo l'ho spiegato prima! L'ho spiegato prima a Stefani Lardi che non va bene il profumo, perché il profumo ti dura tutta la giornata e se tutta la giornata quello si incazza anche negli stati negativi. Te l'ho detto prima che non va bene il profumo. Allora, stai a sentire, no? Il profumo lo devi cambiare. Beh, se vivi lontano, se vivi lontano, cara Valentina, non puoi, allora quella fase lì non la vivi.